L'ozonoterapia è una terapia medica senza effetti collaterali che usa l'elemento naturale dell'ozono e dell'ossigeno in soluzione con l'acqua, apportando benefici e effetti alla nostra salute. L'ozonomatic Jolly Med è un dispositivo medico creato per curare vascolopatie periferiche, postumi di flebopatie, migliora la circolazione sanguigna, utilizzato da tempo in centri di fisioterapia, spa e terme. L'idroterapia ozonizzata è ottima anche nel campo estetico, infatti viene utilizzata con successo per combattere fastidiosi inestetismi come cellulite, smagliature e grazie ad una completa ossigenazione della pelle si ottiene un peeling con eliminazione di acne e punti neri, un massaggio completo per tutto il corpo, un vero linfotrenaggio. L'ozono, disciolto nell'acqua, ha una forte azione antibatterica e antimicotica. Test report effettuati presso importanti università italiane ne attestano il potere disinfettante, aiutando quindi a migliorare malattie della pelle come eczemi, acne, micosi, psoriasi ed è importantissima anche per la sua eccezionale azione antistress. Insomma, l'idroterapia ozonizzata è davvero fantastica, è una terapia medica da cui possiamo solo trarre grandi benefici. L'ozono è un gas naturale assolutamente neutrale nei confronti del nostro corpo, non altera il pH della pelle, non danneggia i capelli e nemmeno gli indumenti, neppure la vasca da bagno. Con Ozonomatic Jolly Med è come avere in casa nostra un centro termale personalizzato, un centro che ci dona benessere, vitalità ed energia. Chiamate adesso per avere tutte le informazioni che desiderate e soprattutto non perdete la straordinaria opportunità di provarlo gratuitamente a casa vostra e senza obbligo di acquisto. Pensate alla vostra salute. Chiamate immediatamente anche la bellissima e comoda borsa per riporre tutto il kit Ozonomatic. Una delle prerogative di Ozonomatic è la semplicità d'uso. Infatti il corpo motore è applicabile e adattabile ad ogni tipo di bagno. Si può fissare alla parete grazie alla sua apposita staffa. Ozonomatic Jolly Med è dotato di un telecomando impermeabile che ci permette di leggere la temperatura dell'acqua, selezionare il programma di idroterapia ozonizzata, il tempo di durata, variare l'intensità del massaggio e grazie al comodo tasto Ozono possiamo trasformare un semplice bagno in un vero stabilimento termale. L'idroterapia ozonizzata è fantastica, non è invasiva, anzi è dolce e rilassante. Quante volte torniamo a casa stanchi e stremati da una pesante giornata di lavoro? Ebbene, questa è l'occasione per rilassarci, ricaricarci, rigenerarci a livello psichico e fisico. Insomma, dedicare del tempo solo a noi stessi. Provatelo e vedrete che non ne farete più a meno. Ozonomatic Jolly Med è adatto a tutti, dal bambino all'anziano. È altamente sicuro, efficace e completo. Ozonomatic comprende un tappetino snodabile, veramente indistruttibile. Grazie alle sue ventose, aderisce perfettamente alla vasca da bagno e, cosa molto importante, si adatta facilmente a qualsiasi tipo di vasca. È formato da 74 tasselli componibili. Possiamo variarne la forma come noi vogliamo. Il tappetino ha ben 300 fori di uscita. Emettono, pensate, migliaia di bollicine di ossigeno che avvolgono il nostro corpo. Il kit comprende la spazzola corpo, un guanto di crine all'ossigeno per liberarsi delle cellule morte, localizzare il massaggio nei punti di maggior bisogno, coscia, fianchi e glutei. La coppa seno, per un leggero massaggio mirato. Il cuscino poggia testa. Il telo sauna. Il telo sauna è universale. Grazie alle sue ventose, aderisce perfettamente ad ogni modello di vasca, in pochi secondi e trasformando la nostra vasca in una sauna. Trattiene il calore e tutto l'ossigeno all'interno. Il risultato è un vero effetto sauna. Fin dal primo utilizzo, purifica la nostra pelle e, riattivando la circolazione, vengono eliminati 300-500 grammi. Potete fare la prova voi stesse. Pesatevi prima di entrare in vasca e, dopo 20 minuti di utilizzo, con acqua a 37 gradi, leggerete quanti liquidi avrete perso. Non dimentichiamo la pratica vaschetta pediluvio, ideale per riattivare la circolazione delle gambe e per eliminare l'affaticamento ed il gonfiore sia di piedi che di gambe. Basterà immergersi per 15 minuti fino al polpaccio per ottenere lo stesso risultato di una bella passeggiata in riva al mare, tanto consigliata dall'angiologo per chi soffre di vene varicose. Con il diffusore per capelli, oltre che ad asciugarli, avremo anche un'azione ossigenante, una cute più sana che con la riattivazione del microcircolo ci consentirà di avere i capelli più belli, morbidi e vaporosi. Telefonate ora e senza impegno di acquisto potrete provare la straordinaria efficacia di questo gioiello tecnologico. Approfittatene, basta solo una telefonata per possedere un vero centro termale a casa vostra. Ozonomatic è un dispositivo medico altamente sicuro, ha infiniti vantaggi, migliora la circolazione sanguigna, ossigena la nostra pelle, allevia i problemi circolatori e vascolari, dolori articolari e muscolari o semplicemente ci ricarica di energia dopo una pesante giornata di lavoro. Un'altra importantissima novità è la cromoterapia. Dal telecomando Ozonomatic possiamo selezionare il colore che desideriamo ottenendo un ambiente del colore scelto, il bianco che ci donerà solarità e purezza, oppure il blu per momenti di relax e introspezione, oppure potremo scegliere il rosso per sentirsi percorrere da energia e vitalità, o il giallo che ci donerà allegria e creatività. Ma ancora possiamo creare un ambiente viola per momenti di spiritualità e consapevolezza, oppure il verde per ritrovare equilibrio ed armonia. Cosa aspettate? Telefonate ora e chiedete tutte le informazioni che desiderate su Ozonomatic Jolly Med. Un nostro tecnico sarà a vostra disposizione direttamente a casa vostra per farvi provare questo straordinario prodotto gratuitamente nella vostra vasca da bagno. Ozonomatic Jolly Med è l'unico inibitabile dispositivo medico per l'idroterapia ozonizzata. Detraibile dalla dichiarazione dei redditi, è un gioiello tecnologico alla portata di tutti, che trasformerà in pochi minuti il vostro bagno in un vero e proprio centro benessere termale. Grazie a tutti.